La Toscana si prepara all'esplosione di colori e allegria del Carnevale di Viareggio. L'edizione 2019 è stata presentata a Firenze dall'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo e dalla presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci. Prima sfilata della manifestazione, che genera ogni anno un indotto di 26 milioni di euro, il 9 febbraio e poi il 17 e il 23 febbraio e il 3 e il 5 marzo. Protagonisti assoluti i grandi carri di carta pesta, 9 di prima categoria e 5 di seconda e poi 9 mascherate di gruppo e 9 maschere isolate per esorcizzare vizi, virtù e paure di oggi. Un grande evento culturale lo ha definito l'assessore Cioffo. È il Carnevale più importante che il nostro paese intero può raccontare, le esperienze e i successi del passato ci consegnano una responsabilità. La regione sarà a fianco ancora una volta del Carnevale per sostenerlo, per mettere a disposizione quello che serve per ripetere con continuità una cosa che è diventata un punto di riferimento sostanziale per le iniziative di promozione del territorio. Tema portante dell'edizione 2019 del Carnevale di Viareggio sarà l'universo femminile raccontato con mostre, eventi e convegni e poi feste e concorsi per le scuole in una manifestazione che solo per la costruzione dei carri coinvolge 23 dite e 250 professionisti della fantasia. È incredibile come i nostri maestri messi del Carnevale di Viareggio unici al mondo ed escono a far divertire tutti, bambini, grandi, famiglie, giovanissimi. Quest'anno poi abbiamo anche l'apertura del corso con il carro dedicato ai giovanotti e allo stesso tempo a far riflettere, a far pensare ai grandi temi sociali, alla grande attualità e a ciò che sta succedendo nel mondo e su cui forse vorremmo tutti che intervenissimo. Il Carnevale di Viareggio ogni anno attrae 600.000 spettatori di tutte le età, molti giovanissimi.